Tutto bene? Sì, tutto bene. Aspetta, ne ho altre. Faccio la gente immobiliare, ma hai visto dove abito? Sì, ma è bello. È più facile da riscaldare. Aspetta. Ecco. Il frigo è vuoto. Non fa niente. Andiamo a cena fuori? Non ho molta fame. Aspettiamo un po'. Dai, girati. 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 Girati.